Ciao ragazzi, voglio farvi capire un attimino come funziona la Trading Room, visto che tanti di voi mi stanno contattando per sapere, perché hanno il dubbio, cosa sarà male, una sala segnali, qualcosa di strano. Non è niente di tutto questo, è semplicemente, come ho spiegato più volte, un luogo dove giorno dopo giorno si lavora sul processo, si lavora sulla comprensione, si fa trading con me e con tanti altri trader che scambiano le loro opinioni sul mercato e su quello che trattano abitualmente, avendo imparato nel mio percorso. Il mio percorso tra l'altro è strutturato con delle video lezioni, tante 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 video lezioni, delle operazioni live sempre nel portale, dei webinar, e questa parte qui è sostanzialmente la base di tutto quello che è stato costruito, perché il lavoro poi vero si fa passando dalla teoria alla pratica, ossia stando in Trading Room e stando tutti i giorni a contatto con me, con i mercati averti, quindi guardando quello che succede, valutando possibili situazioni operative interessanti e appunto crescendo giorno dopo giorno è l'obiettivo essere il giorno seguente un trader sempre migliore di quello precedente, questo è l'obiettivo primario, senza focalizzarsi da subito sul profitto, quella è una cosa che viene, è una cosa che per me ovviamente ora è centrale, però per tutti quelli che studiano dopo me è importante nell'ambito di arrivare a migliorare giorno dopo giorno. Visto che ci siamo vi faccio vedere anche la sessione di oggi dove ho fatto sostanzialmente quello che faccio sempre, cioè ho sfruttato la scarsa comprensione di chi opera il più delle volte sui mercati facendo quello che fanno tutti, seguendo i trend, tradando i breakout e tutte queste cose qui. In sostanza vedete come ho fatto uno short da questo livello, ho fatto uno short da questo livello dopo la spinta che il prezzo ha avuto fortissima in apertura e il fatto che io sia riuscito ad entrare sostanzialmente qui proprio sul massimo di questa spinta e poi prendere il profitto contestualmente non è un caso perché fa parte di un processo, fa parte del sapere quando operare, dove andare a farlo, come e soprattutto perché. Perché vado a sfruttare la scarsa comprensione di tutti quelli che si buttano al mercato seguendo i trend, inseguendo il prezzo e questo mi dà e ci dà un vantaggio notevole, anche perché voglio farvi vedere sostanzialmente tantissimi nella trading room hanno fatto questa operazione senza neanche avergliela dovuta indicare, perché l'avevano nel piano, l'avevano già costruita, vedete qui Luca l'ha fatta e Adrian, qui ci torniamo, è stato stoppato inizialmente e per poi far cosa, la cosa migliore di tutti, rientra e va in gain, cioè è entrato qui troppo in anticipo, è stato stoppato ma comunque è riuscito a leggere la situazione, il continuo della situazione e quindi rientrare e trasformare quello che sarà una perdita in un profitto quindi questo anche fa parte del processo, è importantissimo anche qui Fabrizio ha fatto lo short e insomma molti altri, anche qui Marco ha fatto lo short e bene quindi, assolutamente bene, senza ripeto che io l'abbia dovuto neanche segnalare piuttosto che commentare, perché già sapevano cosa fare poi ho fatto un long invece su cosa? sull'esatto opposto, cioè sull'idea che qui tutti quelli che ora cominciavano a shortare potessero in qualche modo rimanere incastrati e quindi ad una presa di momentum rialzista del prezzo mi sono buttato dentro e l'ho cavalcato in modo abbastanza importante andando poi a prendere profitto una volta che il livello è stato rotto e quindi una volta che c'è stata liquidità per andare a farlo queste sono un po' le due operazioni che ho fatto sul Nasdaq ma ci tenevo sostanzialmente a darvi un po' un'idea di quello che si fa tutti i giorni cioè il mio portale è strutturato così, un 20-30% è fatto di importanza è fatta dalle video lezioni, tutto il resto sono la possibilità di poter stare a contatto con me tutti i giorni, di fare i webinar con me e di stare a contatto anche con decine di altre persone che stanno facendo il percorso sostanzialmente con voi oggi poi come dicevo ieri ho raggiunto il mio target di giornata faccio vedere giusto per così, che è di oggi quindi il mio target di giornata ha raggiunto e come vi dicevo ieri se dovete imparare dovete imparare sostanzialmente da qualcuno che riesca ad avere un profitto che abbia un senso sui mercati ok, perché altrimenti diventa un problema diventa un problema visto che è pieno di, diciamo, improvvisati che dal giorno alla mattina si mettono ad insegnare senza però avere loro prima i risultati, la consistenza per poterlo fare quindi prima studiate e poi magari insegnate quindi questo è quello che c'è nel, quello che si fa nella mia dating room si lavora ogni giorno sul processo, sulla comprensione si cerca di andare a migliorare giorno dopo giorno e dall'altra parte si è la possibilità di stare a confronto con me di avere il confronto con me che sostanzialmente ogni giorno faccio vedere quello che faccio ed è sicuramente uno spunto ulteriore ed un modo per velocizzare in modo importantissimo la propria crescita, su questo non c'è dubbio la settimana che viene molto molto probabilmente vi darò la data del webinar visto che vi siete prontamente iscritti in tantissimi quindi vi darò la data, faremo questo webinar e vi racconterò altre cose che sicuramente saranno interessanti per andare a inserirle nel vostro arsenale di trading